Ehi là, Doug! Ti ricordi di me? Cielo, sei cresciuto mo! Ti vieni il 356%! Vedo che adori ancora i numeri! Sì, faccio il contabile adesso! Oh, ed è anche molto bravo! Tieni i conti del mio negozio di riparazioni! Oh, off, off! Ho rotto così tante cose che ho dovuto imparare come aggiustarle! Hai aggiustato nulla di interessante o misterioso! Oh, e Pippa è un giornalista! Fai ancora tante domande, eh? Tu corri ancora dei rischi, Nala? Al contrario! Ora lavoro nella gestione del rischio! Oh, finanziario o operativo? Covariazione e statistica! Statistiche! Le adoro! A me non sembrano affatto dei lupetti! Sembrano... I nostri genitori! Allora questo vuol dire che quando saremo grandi anche noi diventeremo come i nostri genitori! Sì! Significa che anch'io farò le cose tra un attimo... Mamma! Un attimo! Mamma! Un attimo! Mamma! Un attimo, Tag! Ma dove sono le mie scarpe? È che io mi dovrò... concentrare! Ruli! Per favore, mi devo concentrare! E a me finirà per piacermi il tè! Un tè perfetto! Io non vedrò l'ora di mettermi seduta! Ho aspettato questo momento per tutto il giorno! È che io ballerò come mio padre! Oh sì! Mi piace proprio questo ritmo! Ritmo, ritmo, ritmo... Salve! Anche noi siamo dei lupetti! Proprio come vuoi! Tra un attimo! Tra un attimo! Ci divertiremo insieme! Faremo dei bei giochi e balleremo! Ballare! Credo che ci siano tutti, Dagi! Non abbiamo dimenticato nessuno! Io dico che dovrei stare nel mezzo! Questa composizione è terribile! Sguardo a dritto! Sei decisamente affascinante, Nigel! Ma anche tu entrerai nella foto, Dagi! La fotocamera di Dagi ha un timer speciale che scende finché non arriva a zero e poi scatta la foto dando così a Dagi un mucchio di tempo per unirsi a voi! Oh, capito! Pronto, Dagi? Forse dovreste spostarvi un pochino indietro! Io dico che manca ancora qualcuno! Sì! Ancora un po'? Ancora un altro pochino? Ancora? 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 Perfetto, Dagi! Oh, meglio muoversi, Dagi! Mandiamo, Dagi! Fa presto! È davvero assai irritante! Calpa! Ecco chi mancava! Fa presto, Dagi! Dani! Vieni! Corri! È fantastica! Ti piace, Dagi? Quello che mi piacerebbe vedere è la vita di tutti i giorni della gente che abita qui, come voi! Noi? Sì! I colori, le cose che fate di solito, le esperienze, i suoni, gli odori! Gli odori? Sì! Come... Questo? E quello cos'è? Un calzino! Rolly li colleziona! Ma solo quelli strani! Fantastico! Mostratemene ancora! Questo qui è il resto della mia collezione! Una scatola di calzini! Fantastico! A me piace molto metterle in fila! Come fossero delle vere auto, solo molto piccole! Questo è il nostro palloncino! Prima era molto più grande! Mi piace come è adesso! Che altro potete mostrarmi? Quello era il campanello! E questa... È la porta! Stupendo! Guarda! La nostra! Asse scricchiolante! C'è qualcos'altro che scricchiola qui? No! Questo è un rubinetto! Questa sì che è una vera magia! Già! Stai imparando così tanto sulle vostre vite! Vuoi vedere qualcos'altro? Sì! Mostratemi tutto! Sì! Questa è Millie! È una gatta! Oh, è così carina! Queste sono le galline! Questo è il nostro secchiello! Questa è una finestra! E qui c'è il pitto! Oh! Oh, fate attenzione lassù, Lupetti! E quello è un uccello! Non sappiamo perché gli piace stare qui, ma è così! Eccovi buffo! Lei è rana! E cosa fa rana? Gracida! È davvero stupefacente! Gordi! Questa è la mia! Fa attenzione, Roli! Bicicletta! Che pedalatore esperto che sei, Roli! E là, Lupetti! Che cosa fate? Camminiamo! In mezzo alla campagna! Oh, mi sembra una bella cosa! Sì! Ci sono le farfalle! Ci sono i vermi! Attento! Scusami! E... Le pozzanghere! Splash! 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 Noi amiamo! La campagna! È umido! Oh, è spinoso! Questa non è una pozzanghera! Sapete? La campagna inizia un po' a... Stancarmi! Manca tanto a casa, Dagi! Ottima idea, Dagi! Cantiamo una canzone e saremo a casa senza accorgersene! Ma noi non sappiamo nessuna canzone! Tranquilli, Lupetti! Le sa Dagi perché lui... Ha il distintivo del canto! Fate come fa lui! Il cane grosso cosa fa? Passeggia qua e là! In giro giorni e giorni! Tanti ossi porterà! Il cane grosso cosa fa? Passeggia qua e là! Che cosa è stato? Sono stata io! Ma è Dora! La cazzola! Sì! E sto cercando di far addormentare i miei cuccioli! Che cosa c'è, mamma? Sono così dolci! Ma mamma, sono loro che fanno quell'orribile rumore! Eh? I miei cuccioli sono molto stanchi e non riescono a dormire con voi che fate tutto quel rumore! Stiamo solo cantando, signora Dora! A te non piace cantare? Io adoro cantare! In effetti, io provengo da una lunga stirpe di castori che amano cantare! Devi essere molto brava allora! Beh, non sono male! Nari, tu sai fare questo? Sì! Tu sai fare questo? Sì! Ho appena avuto un'idea! Anch'io ho avuto un'idea! Sì, ma io ho avuto una buona idea! Anch'io ho avuto una buona idea! Scusami! Scusami! Che cosa dovremmo fare? Non lo so! E... Smettila di urlare! Io non sto urlando! Sì! Tu stai! Ma che cosa ci faceva lì un cavallo? Non capisco! Un altro biscotto? Acqua! Splash! 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 Oh! Contiene più sale di quanto pensassi! Splash! 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 Io adoro sguazzare, Happy! Sì! Io sguazzo in continuazione! E' viva! E' viva! E' viva! Da quella parte, un drago! Otto, nove, dieci! Pronti a noi, io vi troverò! Va bene! Finizia giustare! Stiamo facendo amicizia! Bene, lupetti! Ogni formina va inserita nel foro giusto! Quindi, il rettangolo va messo... Lo so io! Nel buco rettangolare! Nel buco esagonale! Oh, uff! Tocca a me! Il triangolo va... Nel buco triangolare! Io, 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 io! Il quadrato andrà... Nel buco quadrato! Questo qui è difficile! Quello lì è un esagono, Norri! Oh! Quindi va nel buco esagonale! Io ho una figura divertente! Dove andrà? Qui? O qui? Devo metterla qui? O qui? O qui? Oh! Guardate quella nuvola! Credi che verrà a piovere, Dougie? Ci potremmo bagnare! Andiamo a giocare dentro! Va bene! Potremmo giocare a serpenti e scale! Oh, al gerbillo che dorme! Si chiama leone che dorme! Qualcosa non va, Norri? Questi animali non finiranno per bagnarsi! Sì, suppongo di sì, Norri! Non dovremmo trovare un riparo anche loro? Sì! Mi chiedo dove ti potresti riparare! Trovato! È proprio della forma giusta! Ecco! È proprio della forma giusta! Non preoccuparti, pesciolino! Non lo sono! Ti terrò l'asciotto! Preferirei di no! Trovato! È proprio della forma giusta! Ottimo lavoro, lupetti! Scherzi, vero? Allora, da dove proviene quel rumore? Da dove proviene questo rumore? Proviene dalle montagne? Grazie, signora rispettosa! Oh, qui non c'è niente! Proveniva da quella parte! Sì! Sì! Ecco da dove proveniva quel rumore! Allora, che cosa ti piacerebbe sapere su di me? Tutto quanto! Beh, non mi piace la confusione! Non piace nemmeno a me! Non sembrerebbe! Ti piace ballare? Non è davvero nelle mie corde? Ci si tuffa in acqua quando si va in kayak? No, è il kayak ad entrare in acqua e tu vai dentro il kayak! No, grazie! Io sto cercando un compagno per il bird watching! A me non piacciono molto gli uccelli! Forse penserai che quello che cerco è ridicolo! Hai ragione! È decisamente ridicolo! A me piace fare gli esperimenti! Lo sapevi che se metti il formaggio... Io ho anche altri interessi! Cambio di tavoli, Dougie! Cerco un compagno per il kayak! Splendido! Cos'è un kayak? È una specie di piccola barca! Meraviglioso! Con cui si affrontano le rapide dei fiumi! Fantastico! Bello, vero? No! A me piace la pulizia! Anche... A me! Sto cercando un compagno! Per il bird watching! A te piace l'acqua! Olf, 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 olf! Ho trovato un compagno! Ne abbiamo uno, Dougie! A me piace dare ordine! E io adoro le ananas! E il prossimo! Lo troverai ridicolo, ma io vorrei tanto avere una grande avventura! Ti piacerebbe fare delle acrobazie assurde? Ma certo! Siamo compagni di avventura! È cato che il mio kayak non sia più grande! Tu sarai il mio compagno di danza! Credo che la tua caccia al compagno di giochi funzioni, Dougie! Ciao, arrivederci! Dougie, non ci dovevi portare in un posto... Speciale? Sì! Questo è il posto speciale per il picnic di Dougie! Beh, immagino che sia piuttosto pittoresco! Panini con la marmellata fatta in casa! Che buoni! Sì, sono davvero buoni! Dougie fa i panini migliori del mondo! È delizioso anche il succo di mirtillo! Bagno! Bagno! Splash! 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 Non insupparti troppo, Abby! Vieni, mamma! Qui dentro si sta benissimo! Non troppo in alto, Norrie! Ma sì, quelli sono... Uccelli beatboxer dal becco grande! Non ne avevo mai visto uno prima d'ora! Che scoperta! Te l'avevo detto, mamma! Oh, sì! Si sta davvero benissimo! Non è così? Non è niente male! Più in alto! Sì, così! Più veloce! Oh, Dougie! Questa è la miglior scampagnata di sempre! Uff, uff, uff! Oh, Dougie! Sei così buffo! Wow! Non avevo idea che sapesse farlo! Ehi, Dougie! Che cosa stai facendo? Uff! Lavori a maglia! Uff! Dougie dice che lavorare a maglia è una delle sue attività preferite! Ehm... Che significa preferito? Per fortuna, Dougie! Ha il distintivo del preferito! E così ci ha spiegato tutto! È molto bravo a spiegare le cose! Uff, 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 uff! Dougie dice che è qualcosa che ti piace tanto! Più di qualsiasi altra cosa! Uff, 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 uff! Uff! E che tutti hanno un qualcosa di preferito! Qual è la vostra cosa preferita? Io non lo so! Ci sono tante cose tra cui scegliere! Poi... Dougie ha avuto un'idea! Ha detto che per aiutarci a scegliere... Avremmo dovuto chiedere a tutti qual era la loro cosa preferita! E così abbiamo fatto! Prova! Prova! Funziona! Funziona! Vuoi sapere qual è la mia cosa preferita? Bella domanda, amico! Avrei dovuto incipriargli il naso! Eh! Oh, scusate! Mmm! La pace! Sì! La pace è la mia cosa preferita, amico! Ero sicura che avrebbe detto le carote! Qual è la mia cosa preferita? Beh, ma è facile! È Nigel! La mia cosa preferita? Ci devo pensare un po' su! Un ordine preciso e una risposta rapida! In marcia! Qual è la mia cosa preferita? Il volume va bene? Sì! La musica abbia in tanni 90! Allora, lupetti, ognuno di voi riceverà... Woof! ...delle cesoie! Mi raccomando, fate attenzione! Dunque, quali sono le regole per le cesoie? Tenerle sempre dall'impugnatura! Giusto, Betty! Ehm... Tenerle chiuse quando non le stiamo utilizzando? Esatto! Tenerle basse e sempre di lato! Molto bene, Tug! Non correre con le cesoie! Molto importante, Rolly! Indossare un elmetto! Forse basterà seguire le altre regole per essere al sicuro, Happy! Woof! Allora, avete le vostre cesoie e le siepi! Adesso potete cominciare con piccole sforbiciate! Senza fretta! E potreste riuscire a fare una sfera bella come quella di Duggy! Possiamo fare soltanto sfere? Oh no! Ci sono tante altre forme che potete fare! Oh! Finito! Io ho fatto un quadrato e io un ovale! Triangolo! Stella! Otta decagono! Ha ben diciotto lati! Accidenti! A quanto pare i lupetti hanno un talento naturale, Duggy! Woof! Facciamone degli altri! Sì! Penso di poter lavorare su questo! Piccolo, ma molto carino! Che cosa posso fare con te? Sì! Io ho fatto un pavone! Io? Un orsacchiotto! Io un rubinesso! Con l'acqua che scorre! Una macchina! E io? Una patata! È stato un giorno pieno di emozioni qui al torneo di inaugurazione del golf pazzo del Club dei Rupetti! Lo abbiamo vissuto appieno sin dalla prima buca! Con il circuito... Delle creature assurde! Che sta causando ai giocatori non pochi problemi! Duggy è rimasto bloccato nella prima fase! E Happy ha trovato un passaggio piuttosto scivoloso! E dopo un po' di confusione... No! 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 Tag! Alla fine si aggiudica la buca! Con un colpo di classe! Sì! Ora tocca alla buca di Betty! È un vortice complesso! La quale inalza la difficoltà... ...ad un livello oltre ogni immaginazione! Con cose come la lavatrice atomica... ...e il microscopio molecolare! Wow! Ma poi arriva uno spettacolare colpo di Norri che si aggiudica la seconda buca! Adesso è il turno della buca di Tag! Mega! Non è giusto! Ha proprio uno strano nome, Duggy! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Una buca molto frustrante per tanti oggi! Ma alla fine, Happy... ...mantiene i nervi saldi e va in buca al sessantesimo tentativo! Sì! Se volete diventare dei marinai, dovete familiarizzare con le varie parti della nave! Il timone della nave... Oh, wow! ...che serve per girare! Prolly! Oh, wow! E quella lassù... ...è la coffa! Che cosa vedi, Happy? Acqua! Quindi questo deve essere il trampolino per i tuffi! Sì! Guardate cosa ho trovato! Un telescopio gigantesco! Oh, ma non funziona! E questa deve essere la scatola dei costumi! Sì! E quella benda sull'occhio ti sta molto bene, Duggy! Una barca! Vedo una barca! È un peschereccio! Ciao! Dietro front! Dove stanno andando? Pescatori, eh? A loro non piace avere altre barche vicino! Spaventano i pesci! Vedo una piovra laggiù! Salve, piovra! Piovra, hai detto? Sono così asociali! Uno squalo! Oh, no! Non di nuovo loro! Una balena! Ostriche! Pesci volanti! Perché scappano tutti via quando ci vedono? Oh, lasciateli perdere! Vedi qualche isola nelle vicinanze? Eh... Sì! Terra dritta! Ottimo! È proprio qui che lo abbiamo lasciato! Lasciato cosa? Ciao, tesoro! Shhh! Eh... La nostra medicina ci farà sentire sicuramente molto meglio! Allora, dove si trova? L'abbiamo seppellita! Dovrete scavare! Io adoro scavare! Eccellente! Portatelo a bordo, per favore! Questa medicina è davvero pesantissima! Oh! Non è una medicina! È un tesoro! Ciao, Dougie! Che cosa fai? Oh, off, off! Devi andare a consegnare un pacchetto! E dove, Dougie? Oh, off, off! Alla fine di quella strada blu! Quella non è una strada, Tug! Quello è un fiume! Ma è impossibile notare fino all'aggiù! Non preoccuparti, Betty! Dougie ha il distintivo del fiume! Perciò prenderemo una barca! Evviva! Acqua! È tutto pronto, Dougie? Oh, off! Ascolta, Rolly! Quella sirena non è un giocattolo! Oh! Bene! Allora... Salpiamo! Evviva! Rolly! Rolly! Salve, galline! A uova! Oh! Acqua! Salve, cervi! Ciao, piccolino! Acqua! Salve, serpente! Acqua! Rolly! Manca ancora molto, Betty! Fammi vedere! Acqua! Acqua! Lo sappiamo che c'è l'acqua, Happy! Un bufalo d'acqua! Duggie, dove sono i palloncini? Uff, uff, uff! Nella scatola dei palloncini, è ovvio! E stiamo organizzando una festa! Allora, che potremmo invitare? Millie! Bene! Rona! Sì! Galline! Se proprio insisti! Palloncini! Stiamo facendo le decorazioni di carta! Sì, 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 sì! Palloncini! Oh! La mia non assomiglia a Duggie! Oh, i miei non si tengono per mano! Dovremmo... Chiedere a Duggie? Sì! Oh! È perfetto! Grazie, Duggie! Altri palloncini! Gli inviti sono pronti! Sì! Vestiti bene! Fateci sapere! Attendiamo una risposta! Sì! Chi non viene o rospo? Venite alla festa! A sorpresa! Di Duggie! Forte amico! Le decorazioni sono pronte! Che cosa manca? La torta di copriano! Pane! Un po' d'uvetta! È così che si fanno le torte! Adesso le dobbiamo decorare! Con tutte le cose che piacciono a Duggie! Crema pasticcera! Spaghetti! Lattuga! E gli zuccherini! Non manca niente! Pronti? Sì! Duggie! Duggie! Io non so che cosa collezionare! È questa la cosa bella del collezionismo, Tugg! Puoi collezionare di tutto! Oh! Piccole cose! Grandi cose! Cose morbide! Cose luccicanti! Oh! Oh! Certamente cose che ti rendono felice! Va bene! Questo mi sembra perfetto! Questo qui! Io credo che quello potrebbe essere un po' troppo pesante per te, Betty! Ci sono! Al mio segnale, truppa! Sollevate! Da questa parte! In marcia! Ma quello lo dovevo dire io! Guarda che cosa ho collezionato, Duggie! Sassolini! Ed un'enorme massiccia roccia! Collezione eccellente, Betty! Foglia! 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 Ah! Ah! Ciao, Rory! Che cosa hai collezionato? Ho collezionato... Foglie! C'è qualcuno in casa? Ehi là! C'è qualcuno in... Scusami, caro, ma questa qui la starei ancora usando! Invece credo che Pablo abbia abbandonato la proprietà qui accanto! Grazie! Sì! Duggie! Guarda cosa ho nel mio cestino! Ho collezionato... Cucchiglie! Oh! Grazie! Ah, cipicchia! Quel pacco è enorme! Oh! Che cos'è, Gaby? Oh! Una sorpresa! Bene! Allora... Apriamolo! Oh! Oh! Questo non è niente! Solo pezzi! È un kit, Lupetti! Dovete mettere tutti i pezzi insieme, come in un mosaico! Noi abbiamo mosaici! Possiamo aiutarti! Evviva! Dove va questo pezzo, Duggie? Duggie! Che mi dici di questi? Duggie! Questo cos'è? E dove va questo qui? E cosa faccio con questo? Oh, questo! Oh, questi qui! Che roba è? Che roba è questa? Questo! Questo! Cosa? Come va? E dove va? Forse Duggie ha bisogno di un po' di spazio per costruire la sorpresa! Va bene! Andiamo a giocare! Ma perché ci sta mettendo così tanto? Già! Vediamo come se la sta cavando! Duggie ha finito! Quasi! Di che si tratta? Non lo so! Forse è ora di prendersi una tazza di tè, Duggie! Di che colore era? Non lo so! A che cosa assomigliava? Non lo so! E quanto era grande? Non lo so! È inutile! Preferisco dare un'occhiata di persona! Siamo in due! In tre! In quattro! Uno, due, tre, quattro... Aspettate! Siamo in cinque! In cinque! Oh! Il mio soffio bolle non funziona! Ci sono! Userò un ula hop! Beh, suppongo che si possa usare un ula hop, Happy! Immergi! Solleva! Soffia! Wow! Questa sì che è una bella bolla! Sì! Bolla! È stupenda! Eppure così fragile! Oh no! Dove sta andando? Si sta dirigendo verso un cespuglio spinoso! Scuttierà! No! Oh no! Il caccello ha buttito! Oh no! Oh no! Il caccello ha buttito! Un elefante! Un elefante! Raffreddato! Attenzione! Un elefante! Vino! E così la ruota del fatto ha girato! Tipico! Finirà per scoppiare! Non oggi! Bella soffiata, lupetti! Oh cielo! Che cestino grande! Sì! Dentro c'è tutto l'occorrente per il picnic! Abbiamo... Una tovaglia! Piotti! Panini! Tazze! Torte! Succo! E... Orsacchiotti! Orsacchiotti? Sì! È un picnic per orsacchiotti! Wof wof! Il mio orsacchiotto si chiama Zazà! Di ciao Zazà! Il mio si chiama Sergente Spacca! Spacca! Questa è la professoressa Fasi! Lei è molto intelligente! Lui è Pozzanghera! A lui piace fare... Flush! 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 Lui è... Raggio di sole ti vuole tanto bene! Wof! 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 E il tuo orsacchiotto come si chiama, Duggy? Wof! Oh, ma è grandioso! E come si chiama questo orsacchiotto? Oh! Quello non è un orsacchiotto, Tug! Quello è un autentico... Orsacchiotto! Orsacchiotto! Ciao! Come ti chiami? Il suo nome è Beryl! Bene, lupetti! Ogni formina va inserita nel foro giusto! Quindi, il rettangolo va messo... Lo so io! Nel buco rettangolare! Wof! Tocca a me! Il triangolo va... Nel buco triangolare! Io, 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 io! Il quadrato andrà... Nel buco quadrato! Questo qui è difficile! Quello lì è un esagono, Norri! Oh! Quindi va nel buco esagonale! Io ho una figura divertente! Dove andrà? Qui? O qui? Devo metterla qui? O qui? Oh! Guardate quella nuvola! Credi che verrà a piovere, Duggy? Oh! Ci potremmo bagnare! Andiamo a giocare dentro! Va bene! Potremmo giocare a serpenti e scale! Oh! Al gerbillo che dorme! Si chiama leone che dorme! Qualcosa non va, Norri! Questi animali... Non finiranno per bagnarsi! Sì! Sì! Suppongo di sì, Norri! Non dovremmo trovare un riparo anche loro? Sì! Mi chiedo dove ti potresti riparare! Trovato! È proprio della forma giusta! È proprio della forma giusta! Oh, accidenti! Ecco! È proprio della forma giusta! Non preoccuparti, pesciolino! Non lo sono! Ti terrò lasciotto! Preferirei di nuovo! Trovato! È proprio della forma giusta! Ottimo lavoro, Lupetti! Scherzi, vero? Duggie! Puoi dare un po' di spremuta anche a Buggy? Oh! Woof! Oh cielo! Riesci a vedere la vite, Duggie? Woof! Riesci a prenderla? Woof! Dobbiamo trovare qualcosa di molto piccolo per raggiungerla! Che cosa potremmo usare di tanto piccolo, Duggie? Una matita! Pinzette! Un ago! Una mini carota! Una mini carota! Una nocciolina! Aspetta! Io sono più piccola di queste cose! Potrei provarci io! Se ce la facessi diventerai una vincitrice! In caso contrario sarei una perdente! No! Sono la più piccola chance che abbiamo! Lupetti! Me ne occupo io! Woohoo! Secondo voi dovremmo aiutarla? Probabile! Dov'è Buggy adesso? Woof! È vicino al filtro! 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 Ditele di andare a sinistra! Vai a sinistra! 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 Woof! Woof! Ora si sta avvicinando al succo! Bene! Oh oh! Come si chiama questo, Douggy? Woof! Il polverizzatore! Che parola divertente! Dov'è adesso? Abbiamo perso i contatti! Oh! Questa missione è troppo grande per me! Come mi è venuto in mente? Oh! Allora, sei pronto per la danza della pioggia, Douggy? Woof! È questa la danza della pioggia? Sì! Almeno credo! Woof! Sta per venire a piovere! Oh! Aveva quasi funzionato! Magari funzionerà se facciamo anche noi la danza della pioggia! Tipo così o così! Sì! Oppure anche così! Ci sono! Così! Forza nuvole! Aiutate le piante! Facciamo la danza... Della pioggia! Forza nuvole! Aiutate le piante! Facciamo la danza... E facciamo la danza... Della pioggia! Forza nuvole! Aiutate le piante! Facciamo la danza... Della pioggia! Non sta piovendo! Non importa, Lupetti! A volte la danza della pioggia non funziona! Sì! Sì! Piove! Sì! Uff! C'è giusto il tempo per un'altra cosa! Un dagli abbraccio! Oh! Dagli abbraccio! Oddio! T'l'agra! Mi eccliale! Mi eccliale! C'è giusto il tempo per un'altra cosa! Anche a la dalla da da... C'è giusto?